Visita istituzionale ad Agrigento del Governatore della Regione Sicilia, Raffaele Lombardo. Due alle tappe del suo tour, il Palazzo della Provincia Regionale di Agrigento e il Municipio di Piazza Pirandello. Ad attendere in Piazza Aldomoro l'arrivo del Governatore della Regione, il Presidente Dorsi ed i rappresentanti politici dell'MPA in Provincia di Agrigento. Dopo i saluti di rito in strada, la folta delegazione si è spostata ad Aula Giglia. Porto la mia solidarietà e quella dell'Aggiunta regionale ad un Presidente eccezionale. Non sono espressioni di circostanza e non ho altri aggettivi per definire un uomo come Eugenio Dorsi, che sta lavorando per il futuro della sua gente. Le intimidazioni di questi giorni non lo faranno arretrare e da parte nostra conferiamo il massimo sostegno all'uomo e all'amministratore. E da parte nostra confermiamo il massimo sostegno all'uomo e all'amministratore. Queste sono state le prime parole dichiarate dal Governatore della Regione, dopo i biliatti intimidatori subiti dal Presidente della provincia e dai tre dirigenti ai tanti giornalisti presenti. Esprimo non la solidarietà formale o rituale, ma quella umana, sentita e forte dell'intero Governo regionale. Perché? Perché intanto si sforza di governare all'insegna della trasparenza, dell'onestà. Vuol dire anche tagliare mille sprechi e forse eliminare privilegi che stanno reagendo. E io credo che quando gli amministratori fanno fino in fondo il loro dovere, meritano, oltre che la mia, la nostra considerazione, quella dei cittadini. Egli quello che fa non lo fa, né per acquisire vantaggi e tanto meno consensi, ma per fare l'interesse della gente, della comunità amministrata. Credo che sia il modo migliore per onorare il mandato che ha ricevuto, che poi dei vili e dei miserabili reagiscono così, come dire, determina, oltre che la tenuta dell'uomo, del suo Governo, di quanti lo sostengono, la solidarietà e la considerazione dei cittadini. Oltre agli attestati di solidarietà al Presidente Dorsi e ai tre dirigenti della provincia, il leader dell'MPA ha ribadito ai presenti anche la volontà della Regione nel portare avanti i progetti di importanti infrastrutture per l'Interland. Come ad esempio l'aeroporto di Licata e i lavori di miglioramento della strada statale 189 Agrigento Palermo. Dorsi, invece, ha ricordato le difficoltà con cui deve convivere la sua azione amministrativa a causa dei tagli economici previsti dal Governo nazionale nei confronti degli enti locali. Incassato poi l'appoggio e la fiducia del Governo regionale, Dorsi ha ribadito la sua volontà a continuare il mandato presidenziale ottenuto grazie al consenso elettorale del 2008. A conclusione dell'incontro nel Palazzo della provincia il Presidente Dorsi ha voluto presentare i propri figli al Governatore Lombardo. Ragazzi, quest'ultimi, che in passato, a causa delle responsabilità politiche del padre, sono stati anche al centro di atti intimidatori. Subito dopo i riflettori si sono spostati a Palazzo dei Giganti dove ad attendere il Presidente Lombardo c'era il sindaco Marco Zambuto. L'incontro si è tenuto al secondo piano del municipio, nella stanza dello stesso primo cittadino. Il tema dominante è stato il finanziamento di circa 25 milioni di euro che la Giunta regionale ha concesso al Comune di Agrigento per i lavori di rifaggimento della condotta idrica cittadina, opere queste che nei prossimi tre anni potrebbero attutire la storica sete della città dei Templi. Il finanziamento è questo, ha spiegato il sindaco Zambuto, più volte chiesto al Governo nazionale è che la Regione, in soli 9 mesi, ha dapprima approvato il progetto e poi finanziato l'opera. C'è un problema di copertura finanziaria che andiamo risolvendo. Abbiamo affrontato il problema della rete idrica, c'è un problema di approvvigionamento con i dissalatori, c'è un problema di dighe da completare. C'è tutto un piano che si sta portando avanti. È chiaro che noi dobbiamo arrivare in una terra nella quale se soltanto si raccogliesse una piccola percentuale dell'acqua piovana avremmo risolto ogni tipo di problema. È un problema che va inquadrato in un'ottica di risanamento e di riorganizzazione, alla quale stiamo lavorando e io vi devo dire che credo che nell'arco di un paio d'anni la Sicilia potrà aver chiuso anche questa emergenza. Ricordo che questi non sono soldi che appartencono all'intirizzo della rete idrica ma sono soldi che escono da un vonto del Presidente che grazie all'input del lato idrico che non si ferma soltanto da Grigento ma che investe pure Sciacca e altri comuni sta cercando di eliminare questo atavico problema che è quello della contotta idrica che è ridotta in un colabruodo. Il problema vero era quello che la rete idrica perdeva più del 50% del liquido prezioso ed è lì che è iniziata la nostra battaglia dove abbiamo speso tutte le nostre energie perché venisse realizzato prima di tutto il progetto perché non vi era il progetto e poi perché venisse finanziato ed è proprio per questa ragione che a nome della città di Grigento esprimo tutta la mia gratitudine nei confronti del Presidente della Regione perché si tratta di un fatto storico e straordinario per la nostra città. Naturalmente vista la situazione politica del Governo cittadino e la presenza del leader dell'MPA Lombardo nel corso dell'incontro sono emersi una serie di spunti politici che probabilmente nella formazione della nuova giunta Zambuto porteranno al divorzio ufficiale con il PDL del Ministro Alfano e al consolidato rapporto con l'MPA di Lombardo che dovrebbe figurare nell'esecutivo oltre che l'Udc e il PD. C'è un rapporto fortissimo con il Governo della Regione Siciliana. Grazie. Grazie. Grazie.